Sono Daniela Gattuso, ho 27 anni e sono ingegnere gestionale. Con la laurea magistrale ho iniziato a lavorare presso l'ospedale Niguarda di Milano, prima come borsista all'interno di un progetto di valutazione delle tecnologie sanitarie. Adesso sono dipendente presso la gestione operativa dell'ospedale. All'interno della gestione operativa mi occupo del monitoraggio delle performance dei blocchi operatori mediante indicatori di processo e dell'ottimizzazione del percorso del paziente chirurgico. Nel percorso magistrale ho apprestato molto l'affiancamento delle lezioni teoriche con testimonianze e laboratori con le imprese del settore sanitario, grazie alle quali è stato possibile immedesimarsi in situazioni lavorative reali attraverso la partecipazione ai business case. Questo ha permesso anche la creazione di un network tra le varie imprese del settore sanitario e relativi professionisti con i quali adesso è possibile confrontarsi sulle comuni tematiche lavorative. Se dovessi immaginare me tra 5 anni mi vedo sempre a lavorare nel contesto sanitario magari con un ruolo di maggiore responsabilità.